Prima campanella per il liceo Politi. Non solo prima campanella dell'anno, ma questo sarà un anno particolare perché si inizia con la riforma Renzi. Per quanto riguarda le novità, tutto si aspetta ancora i decreti attuativi. Di certo non c'è nulla, l'unica cosa è che le gradatorie sono sparite e il dirigente dovrà attingere per eventuale sopplenza o per eventuali incarichi da parte dell'ambito territoriale. L'ambito territoriale che verrà presentato il curriculum. A mio avviso il condenzioso sarà in maniera eccessiva perché è difficile andare a fare i confronti fra il curriculum e quindi ognuno giustamente cerca di far valere la propria tesi, la propria posizione e quindi i ricorsi saranno aiosa. Una riforma che dà dunque più potere ai presidi ma anche più responsabilità. Dà più potere ai presidi sì, però con molta più responsabilità come accennavo poco fa perché significa andare e venire dall'aula di tribunale. E' inutile che dicono di no, ma sarà così sicuramente. Era opportuno che si mantenessero le gradatorie. Primo giorno di scuola ma anche primo giorno in una nuova scuola perché siete la prima classe del liceo Politi. Che aspettative avete? Abbiamo aspettative comunque molto positive perché riteniamo che è una scuola molto valida. Quali sono gli impegni che ti sei prefisso? Beh, cerco di rispettare i vecchi impegni che mi ero proposto per gli anni passati, però cerco comunque di migliorarli un po'. In classe nonostante l'allerta meteo? Allora io sono venuta qui in classe perché sinceramente non mi è sembrato così diciamo allarmante e poi ero contenta di venire il primo giorno di scuola. Un giudizio sui nuovi compagni? Spero che quest'anno si vada tutto bene con i nuovi compagni, anche con i professori. Come avete accolto i ragazzi stamattina? Stamattina in pratica prima abbiamo ricevuto ragazzi e genitori in Aula Magna e abbiamo organizzato per loro una cerimonia di accoglienza con musica e video. Poi adesso qui in Aula abbiamo organizzato un sito virtuale, all'interno di questo sito abbiamo caricato dei test e abbiamo previsto delle gare a squadre. In tutto sono tre gare. Abbiamo voluto renderle molto giocose, tanto che abbiamo detto loro che hanno la possibilità di richiedere due aiuti da casa. Quindi possono chiamare a casa e chiedere un aiuto, possono andare in una classe di un secondo liceo, di una seconda liceo e quindi chiedere l'aiuto ad un compagno. Diciamo che abbiamo voluto fare questa cosa anche perché le nostre aule sono dotate di questi mezzi tecnologici, abbiamo le LIM in tutte le aule e quindi abbiamo voluto lavorare con loro, giocare proprio sfruttando la tecnologia. Grazie a tutti.